Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI ci sono due chilometri di coda per lavori nel tratto compreso tra Cascina e Navacchio-Visignano in direzione Pisa. In a uno rallentamenti per una perdita di carico avvenuta tra Valdarno e Incisa-Reggello in direzione Bologna. Sulla statale 63 del Valico del Cerreto tratto chiuso per lavori tra Aulla e il Bivio per la statale 62 della Cisa. Sul raccordo Siena-Firenze fino al 14 settembre scambio di carreggiata tra Poggi Bonzi e Cole Valdelsa Sud in direzione Siena. Sulla tangenziale di Siena chiusi per lavori gli svincoli di Siena Nord e Acqua Calda. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!